Mio marito dorme a sinistra e io a destra. Tu prendi il mio posto. Dura in poi obbedirai a delle regole. Meglio che tu non le infranga. Non puoi imprecare. Non puoi cantare. E non puoi pregare il tuo Dio. Io non ho un Dio. Come puoi dirlo con tanta sicurezza? Mio marito è andato via. Io sono una giornalista, non ho figli e il mio lavoro è la mia vita. Parli come un uomo. Io credo che una donna possa fare tutto ciò che fa un uomo. Quel fucile è rotto, tuo marito non lo usa. Non è suo, è mio. È incredibile. Cosa è incredibile? La tua fede. La tua fede. Buon anno. Grazie a tutti.